ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'info speed allora ragazzi stavo guardando la mappa e ho notato che dobbiamo fare un po di mission cine quelle principali infatti se premo questo tasto posso vedere tutte le missioni principali ovvero rb oppure posso vedere gli eventi collezionabili servizi attività tutto quanto ma noi mettiamo missioni e tra le varie missioni c'era questa qui prova in derapate che da veramente tanti soldi quindi ragazzi andiamo subito a fare questa gara via vinci gli eventi derapata con manu ok siamo solamente con manu sì c'è solo lui perfetto quindi dobbiamo darci veramente da fare perché dobbiamo fare almeno 30.000 punti e non sono pochi ragazzi non sono affatto pochi non sono proprio pochi vai vai sta andando bene bella lunghissima questa guarda che roba guarda che roba l'assetto della macchina mi piace davvero tanto l'ho fatto diverso tempo fa e non mi dispiace oh 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 dove stavo andando ok pensavo di aver sbagliato strada invece ok questa la devo prendere bene vai ok siamo già a metà siamo già a metà vai 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 perfetta perfetta uh 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 18.000 ancora pochissimi checkpoint e poi la gara è finita ah cavolo sono entrato male peccato dai ancora un checkpoint bisogna dare il tutto per tutto questa curva no peccato vabbè fa lo stesso l'obiettivo era 30.000 noi abbiamo fatto 22.587 peccato solo che era molto corto questo tracciato perché avrei potuto dare molto di più se avessi avuto qualche curvetta in più ok passiamo subito eh lo so fallimento allora passiamo subito ad un'altra gara quindi tra quelle principali vediamo un secondo missioni cosa abbiamo qui competizione derrapate questa da 4000 facciamola se no questa che cos'è questa è tog molto bella anche questa andiamo a far ok siamo contro altri sfidanti quindi ci dobbiamo impegnare nelle derrapate questa volta la macchina risponde perfettamente abbiamo già visto diverse gare fa che le derrapate funzionano bene adesso però tra poco dovremo anche cambiare macchina probabilmente ok aia che botta scusa tommy non sapevo ci fossi anche tu ok no 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 qua rettilineo tienila 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 ok questa è strettina c'è anche il traffico oltretutto questa è bella ragazzi questa è bella c'è robin uh 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 attenzione attenzione scusa robin ma passavo da queste parti e facevo una derrapata sai com'è ok altro curvone importante qua bello bello peccato ho stretto troppo peccato veramente però vediamo un attimo quanti c'è poi mancano una marea perfetto possiamo ancora restare tra i primi quindi vediamo un po ora non voglio guardare la posizione perché sennò mi deconcentro ok questa è bella questa è bella oh uno è volato assurdo l'abbiamo fatto volare forse non lo so bella bella ok peccato la stavo per tenere no no questo un pazzo quello lì era un player normale non era il computer sicuro quello è un infame ok vai è ancora buona la gara possiamo farcela se il punteggio è molto buono si sono ancora primo vai ok ho avuto qualche difficoltà a metterla di traverso in questa curva o troppo veloce troppo troppo veloce sono arrivato sì ok ultimo checkpoint ultima curva vai 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 va bene perfetto no ultima curva ultime due curve ok pensavo fosse l'ultimo va bene dai questa è quella buona dai bella bella devo stringerla perfetto ok perfetto forse è andata bene forse è andata bene non ho visto il punteggio ok siamo arrivati prima ragazzi ottimo 70.000 sto migliorando tantissimo che che roba ho in testa scusate ok per un attimo non capivo che cosa fosse finito sopra la mia macchina e ci stiamo andando pesante anche con la reputazione ragazzi molto bene quindi che dire passiamo subito ad un'altra missione quindi sempre missioni principali allora mettiamo la spunta per le missioni principali e che cosa abbiamo qua qua è emi giusto dovrebbe essere una missione di emi sempre derapata allora abbiamo fatto questa che c'è la spunta verde poi abbiamo già fatto il tog e allora passiamo qualcos'altro stiamo quasi finendo le missioni principali facciamo una gara di sprint molto facile e andiamo ragazzi andiamo un qualcosina di più leggero col mio amico spike sicuramente la spacca ma guarda ma guarda un po siamo già prini attenzione ok non so quanti checkpoint sono devo dare un'occhiata ok sono 34 checkpoint perfetto e qua cos'è tipo autostrada a quanto pare vediamo chi c'è dietro c'è una bella fila di macchine oh 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 sto andando veramente forte con questa macchina ragazzi vi ricordo che abbiamo anche nosse ogni tanto si ricarica però conviene usarlo quando serve magari non nelle gare di derapata vai ci siamo quasi ragazzi mancano ancora quattro checkpoint e anche questa gara che era facile l'abbiamo quasi conclusa ok usiamo nos via e si va a vincere attenzione bene un po di garette l'abbiamo fatte non sta andando affatto male vorrei fare un salto con voi in garage e vedere se possiamo acquistare una nuova auto e soprattutto vediamo quanti soldini abbiamo ok ragazzi siamo in garage in questo momento e vorrei provare a vedere se troviamo una macchina veramente bella da prendere ok abbiamo intanto con questo tasto possiamo vedere le caratteristiche perfette qui invece ci racconta la storia la descrizione della macchina e abbiamo la volvo 242 del 75 guarda un po che roba il golf gte del 76 la mx 5 del 96 guarda te guarda quanto quanto hanno aggiunto ma che figata la mustang del 65 ragazzi adoro le muscle car potrebbe essere il mio prossimo acquisto la supra bella mamma mia ragazzi guardate quante macchine che roba figata la challenger mamma mia del 2014 poi che cosa abbiamo vediamo un po guarda che roba queste vabbè costano un pochettino tanto però potrebbero essere il nostro prossimo acquisto è la mustang boss 302 ragazzi del 69 è anche quella entrerà nel mio garage sicuro guarda quante macchine sono tantissime sono un'infinità ragazzi ok back customs f 132 allora tanto vediamo da 0 a 100 quanto fa 37 ragazzi 307 però attenzione c'è cos'è la diablo si la ventador fa 279 allora vorrei un attimo vedere riguardo alla mustang la mustang mustang boss è un'ottima macchina infatti penso che prima o poi la prenderò vorrei vedere però dov'è che l'ho vista un attimo l'ho vista prima ok ok no ok la mustang 65 fa da 0 a 106 79 velocità massima a 197 281 cavalli vorrei fare quasi quasi l'acquistone ma costa ancora un pochettino troppo per i miei fondi quindi potremo passare a qualcosina di più tranquillo magari e potremo accumulare un po di soldini per prenderci una challenger che ne dite una bella dodge challenger del 2014 si decisamente decisamente potrebbe essere il nostro prossimo obiettivo oppure un lancer evolution del 2008 anche non è affatto male 35.000 quindi allora ragazzi io direi che quasi quasi compriamo questa e però prima di fare ciò penso che andrò a fare qualche garezza per conto mio così accumulerò soldi e nel prossimo episodio compreremo insieme questa automobile con tante modifiche da farci eccetera eccetera quindi ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace e commentate e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti